ciao ragazzi vi mostro due prodotti che ho preso della collezione charming escape di chicco e uno è un blush nella colorazione 04 mellow field spero di averlo detto bene questo è il pack e ora vi mostro il blush e questo qua facciamo uno swatch guardate che bella decorazione che ha vabbè l'avrete già visti e rivisti questo è il blush bello ma lo scrivente però l'ho preso come malva tra l'altro l'ho preso in negozio l'ho anche sbocciato mi sembrava più malva poi ho preso un altro pezzo della collezione che è un rossetto ah ecco dimenticavo l'ho presi con uno sconto che avevo di 10 euro praticamente non ho pagato il rossetto perché il blush costava 12 e 90 o 99 questo 9 99 rossetto non ho pagato e lo volevo già prendere da un po però mi sa che ho sbagliato la colorazione perché avevo visto dei video almeno nei video mi piaceva questa qua è un po scura avete visto il pack ve lo faccio rivedere questo è il pack molto bello particolare non sembra neanche un rossetto di chicco che è diverso dal solito questa è la colorazione del rossetto che vi mostro qui cioè è bello mi piace però lo volevo un po più nude qua sembra più acceso come lo vedete voi si siamo più acceso questo è il blush questo è il rossetto e non ci sento una particolare profumazione e ne ho approfittato appunto perché avevo questo questi 10 euro di sconto perché volevo trovare un blush e un rossetto di questa linea vi piacciono come pensate poi ve li mostrerò in un video vediamo se vi interessa niente questo era il mio piccolo acquisto il mio piccolo video spero che vi sia piaciuto e poi vi scrivo cosa ho sulle labbra in info box andate a vedere sulle unghie non ho niente ciao ragazzi